Torno a parlare di ossidazione anodica perché i precedenti video hanno sollevato alcune domande che mi piacerebbe approfondire, relative soprattutto alla tipologia di materiali che vengono impiegati negli scambiatori di calore per le applicazioni nell'ossidazione anodica. Come dicevo negli impianti di ossidazione anodica solitamente si utilizzano dei fluidi parecchio corrosivi. Tipicamente nell'ossidazione anodica dell'alluminio il fluido utilizzato è acido solforico con una concentrazione del 20% e temperature più o meno di 20-25 gradi. Questo tipo di concentrazione consentirebbe dal punto di vista degli agrammi di isocorrosione di utilizzare a ISI 316, se non che c'è il rischio in questi impianti che le temperature non sempre siano a 20-25 gradi ma possono sfuggire verso l'alto soprattutto quando magari l'impianto è fermo durante la stagione estiva. Se andiamo a vedere i diagrammi di isocorrosione ci accorgiamo che la corrosione nei confronti della ISI 316 da parte di questa soluzione di acqua e acido solforico diventa decisamente preoccupante. A questo punto bisogna selezionare un tipo di materiale diverso. Solitamente per le piastre si utilizza una lega della Avesta, copyright, la 254 SMO che è una lega alto legata che ha un'ottima resistenza ai cloruri anche quindi con concentrazioni di acido solforico più elevate ma soprattutto con temperature più elevate. Se non bastasse si può passare al titanio. Il titanio viene utilizzato normalmente con acqua amare quindi con concentrazione di cloruri estremamente elevata e anche con temperature elevate e va benissimo anche per l'ossidazione erudica. Dal punto di vista dei costi diciamo che fatto 100 il 316, 254 SMO e o titanio fa 200. Dipende dalle variazioni di mercato. Per concentrazione invece di acido cloridrico il discorso diventa un po' più complicato nel senso che il titanio o l'Avesta non bastano più ma bisogna utilizzare la Stelloy C276 che è un'altra lega alto legata dai costi decisamente importanti, disponibilità sul mercato relativamente bassa ma comunque diciamo che è una soluzione stampabile a freddo quindi per gli scambiatori di calore a piastre va benissimo. Quando ci troviamo invece con scambiatori di calore a fascio tubiero diciamo che le scelte sono abbastanza simili nel senso che tubi in 254 SMO se ne trovano, tubi in titanio si trovano un po' più a fatica, l'Astello IC anche ma diciamo che intervengono anche altre soluzioni per cui si possono utilizzare scambiatori magari realizzati con altre tipologie di materiali. Mi viene in mente l'incoloi, il monel. Chiaramente cominciamo ad andare su materiali decisamente sofisticati che hanno dei costi elevati come materia prima e anche come elaborazione. Quando poi la corrosività di queste sostanze è ancor più elevata si va decisamente con scambiatori direttamente in graffite. Quindi sono scambiatori costruite con delle mescole di graffite, chiaramente sono scambiatori un po' particolari, non sono più a piastre, a fascio tubiero, sì è qualcosa che ci assomiglia ma insomma diciamo che sono delle costruzioni decisamente molto particolari. Arriviamo poi agli scambiatori realizzati in plastica, i famosi spaghetti du pont sono degli scambiatori a chioma, quindi insieme di tubicini in plastica che vengono immersi nella vasca che devono termostatare. Ci sono poi altri costruttori ovviamente che li fanno, i materiali sono polipropilene, PVC, molestamente dipende poi dall'applicazione, dalla lavorabilità, dalla lavorazione, dalle temperature a cui devono lavorare perché attenzione stiamo parlando di plastica, se cominciamo a dover scaldare la plastica subisce un fenomeno di smelling decisamente elevato, quindi bisogna starci attenti. Nel farmaceutico, e qui mi sposto dall'ossidazione anodica, ad esempio quando i fluidi sono corrosivi si utilizzano scambiatori e o reattori in vetro, però chiaramente stiamo parlando di un settore completamente diverso dove anche la delicatezza delle operazioni è differente. Immaginiamo un impianto di ossidazione anodica dove vengono immersi dei pezzi metallici dentro un vasco e questi pezzi metallici devono essere ossidati anodicamente, insomma è ben diverso da un laboratorio farmaceutico dove vado a dosare da buon farmacista dei componenti che vanno in un reattorino. Chiaramente ogni applicazione ha la sua specificità. Spero di aver chiarito qualche dubbio, diversamente scrivetelo. Un saluto!